You can't pay your broken strings, you can't feel anything that your heart don't want to feel, I can't tell you something that ain't... Dal comune di Minervino Morge, nel territorio del nord barese, a tutta la Puglia, dalla nostra regione al territorio nazionale, con l'obiettivo di invadere i mercati europei, è l'immagine del marchio Aqualove, che fornisce soluzioni e tecnologie certificate di purificazione di acqua, con l'intento di migliorare la qualità della vita attraverso l'uso e il consumo di acqua pura. L'azienda nasce nel 2010 dalla pluriannale esperienza dell'azienda Mondomatic, realtà leader del settore nella produzione di sistemi di purificazione. Sono delle isole dove si può attingere l'acqua, già fredda e frizzante, ad un costo molto conveniente. L'ambiente trae un vantaggio enorme, basti pensare che nei primi sei mesi, con il numero minimo di impianti su Andrea, abbiamo erogato oltre 100.000 litri di acqua, quindi immaginate il risparmio del volume di bottiglie. Oltre che al CO2 non è emesso sia per il trasporto che per la produzione delle bottiglie. L'impegno, la professionalità e la serietà del marchio garantiscono la qualità del prodotto, poiché Aqualove è in grado di fornire acqua pura in qualsiasi momento del giorno e in ogni ambiente, dalla casa all'ufficio, passando per la piccola e grande ristorazione. La città di Anderian è un esempio. Qui sono state predisposte 15 postazioni, l'ultima delle quali nei pressi della Chiesa del Sacramento, e a spiegare i vantaggi è Giulio Villano, General Manager Aqualove. Svilupperemo su Barletta, su Trani e nel circondario altri punti. Qui a Minervino, dunque, nella vostra azienda, che cosa nello specifico producete? Impianti tecnologicamente avanzati per il trattamento dell'acqua. Prendono l'acqua, la purificano, la rifrigerano e la fanno diventare frizzante. Esportiamo questo prodotto. L'acqua frizzante italiana è sempre stata la più esportata nel mondo e oggi anche gli impianti italiani che trasformano l'acqua normale in acqua frizzante vengono anche essi presi e esportati nel mondo come un made in Italy, un fiore all'occhiello. Se qualcuno volesse avere maggiori informazioni, dove possiamo reperirla? Da un nostro qualsiasi rivenditore o può chiamare un'azienda dove possiamo metterli in contatto con un distributore locale.